ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi voglio fare insieme a voi il cambio dell'anello z ring stappato in 3d per testare la sua bontà le sue prestazioni che dovrebbero portare al quick release della stabilità per quanto riguarda il movimento destra e sinistra dei volanti allora in questo momento sto smontando l'anello che ritiene tutto il quick release è un'operazione che bisogna fare con cautela non è un tutorial questo soltanto per discutere per apprezzare e vedere se effettivamente questa soluzione che è proposta stampata in 3d può giovare o meno a ridurre il movimento del volante come vedete in questo momento sto tirando fuori i fili con molta cautela bisogna girare in senso anti orario per far uscire fuori i cavi e in pratica questo perché bisogna togliere l'anello di ritenzione cioè quello che fa compressione con il grosso anello in ottone che si avvita e la parte in caucciù o in plastica se preferite che viene appunto rimossa onestamente io non è che ho avuto problemi di stabilità del volante però quello che mi dà un po fastidio di questo quick release è che quick release proprio non è nel senso che quick release vuol dire rilascio rapido e quindi ogni volta bisogna fare una forza abbastanza importante sul sul volante per poterlo tirare fuori e allora ho provato detto con 12 euro magari ho la soluzione in cui posso avere la stessa stabilità almeno o anche di più e in più avere realmente un rilascio rapido allora staccata la parte del quick release come vedete vado a svitare il grosso la grossa grosso anello o grossa vide o come vi pare dalla parte del quick release che poi andrò a recuperare montare al contrario perché questo farà pressione proprio sulla parte stampata in 3d tolgo l'anello o la lamella o l'anima come volete più la parte in cauccio che come vedete fa un attrito abbastanza importante quindi per togliere bisogna sforzare un pochettino per poi applicare la parte stampata in 3d lo z ring e la cosa importante che le quote di stampa siano perfette per potersi appunto adattare al nostro quick release eccolo qua lo sto inserendo vediamo se va tutto bene mi pare che non si muova adesso farò un testo per vedere com'è eccolo qua si adatta perfettamente e addirittura si può comunque mettere la vite che è un di più però per il quick release e questo diciamo è fatto proprio per evitare anche di mettere la vite quindi come vi dicevo sto riavvitando adesso la grossa vite in ottone per andarla a fissarla sul nostro pezzo in stappato in 3d e il tutto poi riagganciare al i cavi alla base per poi reinserire la parte del quick release e testare effettivamente la bontà di questo prodotto qui quindi l'operazione qui da fare in ritroso cioè al contrario nel senso che si attaccano gli spinotti poi si fanno girare i cavi in senso orario senza assolutamente forzare l'operazione abbastanza delicata bisogna fare attenzione e quindi di conseguenza rimettere dentro i cavi facendo girare il tutto in modo tale che si possa inserire con una certa tranquillità non bisogna assolutamente forzare il tutto deve farsi diciamo abbastanza naturalmente e con la rotazione oraria normalmente si riesce a inserire con una certa tranquillità senza forzare fabbri è detto senza forzare quindi continuiamo a girare bravo fabbri eccolo qua ovviamente io la voce off è registrata in tempistiche diverse perché mi stavo concentrando a quello che stavo per fare comunque una persona un'operazione delicata da fare poi quando si è fissato il quick dentro bisogna riavvitare l'anello che tiene il tutto ovviamente staccando di qualche millimetro dalla base perché altrimenti tocca e non va bene riavvitando prima a sinistra poi a destra in modo tale che sia una compressione abbastanza uniforme per quanto riguarda appunto lo stringere queste viti su sulla parte del mozzo che tiene il tutto quindi è molto facile però è comunque abbastanza delicato da fare perché comunque è una parte che insomma non è fatta per essere smontata ragazzi nel senso che questa è una soluzione che viene proposta proprio per cercare di appunto stabilizzare la cosa se devo andare fino in fondo al mio pensiero devo dire che onestamente mi sembra veramente un peccato arrivare a questo tipo di soluzioni perché Fanatec avrebbe potuto comunque proporre qualcosa del genere magari anche a livello qualitativo superiore voglio dire perché che sia una ditta esterna che vi proponga questo insomma mi sembra un po un peccato vabbè comunque ecco qua i pezzi che avanzano si mettono da parte ovviamente perché per in modo tale che sia comunque reversibile la cosa questo praticamente è come si presenta oggi il mio quick release con questa parte stampata in 3d che comunque diciamo che non è che ha il compito di migliorare il forcibile che ho altro ci mancherebbe questo infatti faccio vedere prima com'era e dopo ecco qua com'era però ha la funzione quello di stabilizzare un attimino le oscillazioni laterali del volante e soprattutto di quello di migliorare proprio la funzione del quick release adesso ve lo faccio vedere la velocità con il quale adesso inserisco e tolgo il volante quindi ho trovato la feritoria e quindi adesso clac clac eccolo qua ragazzi però sul volante bmw gt2 tutto questo ammiglioramento non è che lo vedo però guardate come si stacca rapidamente come se quindi già io qua sono vincente nel senso che non devo fare forza non devo per forza mettere la vite anche se vi dico la verità la metto comunque per sicurezza e poi vi faccio vedere anche la differenza con il v2 lì invece ho notato grossa differenza e penso che sia proprio per la conformazione dei volanti c'è uno è molto larga una ruota da 30 centimetri molto pesante l'altra più leggera più corta quindi di conseguenza più stabilità lo vediamo subito quindi qui di nuovo ragazzi guardate m3 gt2 e poi vediamo il v2 guardate il v2 non si muove ragazzi veramente pochissimo e quindi si parte per andare a guidare ragazzi allora ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto non è un tutorial assolutamente non ho abbastanza esperienza in merito a questo prodotto per dirvi se vale la pena o meno vi prenderò il tempo di poter testare bene le sue qualità vedere anche la sua resistenza e come al solito ragazzi lasciate un pollice in su se questo video vi è piaciuto un commento qui sotto non esitate ad iscrivervi al canale tante gratuite attivate la campanellina noi ci vediamo prestissimo da fabbrica è tutto ciao